Datemi i sondaggi, vi faccio vedere cosa ci dice Index questa settimana. Lega 23,7 ha perso lo 0,3 dalla settimana scorsa. Il Partito Democratico 19,2 ha perso lo 0,8. Fratelli d'Italia ancora più su, sfiora il 17 col 16,9 più 0,4. Il momento 5 stelle 14,6. Andiamo al cartello successivo. Forza Italia al 6,8, azione di calenda al 3,7, la sinistra al 3,5, come anche l'Italia Viva al 3,5. E poi più Europa 2,5, Europa Verde 2,2, cambiamo Totti 1,1. Poi Index ha chiesto agli italiani la fiducia nei leader. Giorgia Meloni guida col 38%, davanti a Giuseppe Conte, a Matteo Salvini, a Zingaretti, Berlusconi, Calenda, Di Maio e Renzi. Poi abbiamo crisi. Che cosa succederà, è stato chiesto al campione. Un governo di unità nazionale senza conti per il 42,8%. Quindi gli italiani sono pronti a scommettere che non ci sarà Conte, ci sarà un governo con tutti assieme. Un governo Conte senza Renzi per il 21,8%, che è quello che è l'ipotesi invece più accreditata da noi e dai cronisti stasera. Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora solo per l'8%. Le elezioni anticipate solo per il 6%. Il cartello successivo è stato chiesto agli italiani se vogliono le elezioni subito, no il 44,6%, sì il 40%. Grazie.